Siamo stati membri a costruire un nuovo modello di sviluppo che fosse più inclusivo, più competitivo e più capace di affrontare le grandi transizioni che non sono sfide del futuro ma sono sfide del presente, in particolare la transizione ecologica e quella digitale. Noi teniamo molto quindi al PNRR e al Next Generation EU proprio in chiave europea, questo è un governo fortemente europeista e anche per questo ci siamo impegnati a mantenere i patti che abbiamo stretto con l'Europa perché nascesse questo fondo. I patti prevedono un rispetto di tempi ma anche il raggiungimento dei obiettivi che sono particolarmente sfidanti e lo sono anche sul digitale che è la questione della quale io mi occupo più direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico. Alla transizione digitale nel PNRR sono dedicati il 27% delle risorse complessive, una mole di più di 49 miliardi in totale. In realtà diciamo che sono diversamente distribuite queste risorse ma vanno ad affrontare le criticità storiche legate al digitale nel nostro paese. La prima di tutte è la criticità infrastrutturale, noi non possiamo immaginare di avere uno sviluppo tecnologico efficiente se non abbiamo infrastrutture in grado di sostenere questo sviluppo. Nella pandemia l'abbiamo visto tutti cosa significa non avere infrastrutture digitali all'altezza, bastava essere a casa e dover seguire un corso a distanza o dover conciliare le esigenze di un ragazzo o di una ragazza, di un bambino o una bambina, di restare in connessione con la propria scuola e quella dei genitori di fare il proprio lavoro in smart working e si capiva quanto debole e fragile è l'infrastruttura digitale del paese e quanto soprattutto ci sono differenze territoriali insopportabili non solo tra nord e sud ma spesso tra grandi e piccole città, tra aree centrali e periferiche, le cosiddette aree bianche, grigie e nere del paese che dobbiamo trasformare invece in un complesso di aree colorate nello stesso modo perché da lì passano le opportunità. Il dovere di uno Stato è garantire che ci siano per tutti pari opportunità, oggi la criticità delle infrastrutture anche materiali, ma adesso parliamo di quelle digitali, fa sì che queste pari opportunità non ci siano. Quindi 6,7 miliardi del piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate proprio a colmare questo gap, questo ritardo storico. Abbiamo 5 anni per colmare un ritardo che abbiamo accumulato fondamentalmente negli ultimi 50, perché è chiaro che questo tipo di processi sono iniziati molto tempo fa e che noi abbiamo fatto un po' fatica anche laddove eravamo stati pionieri come sul 5G e in realtà oggi abbiamo accumulato dei ritardi che dobbiamo recuperare. Quindi questo investimento ha un significato importantissimo da questo punto di vista. Dopodiché le infrastrutture sono cattedrali nel deserto se non ci sono investimenti su quello che poi deve camminare sopra quelle infrastrutture. In particolare come Ministero dello Sviluppo Economico dedichiamo 14 miliardi a un piano che si chiama Transizione 4.0, che esiste già ma che verrà migliorato ed integrato in modo che il sostegno soprattutto alle piccole e medie imprese, micro piccole e medie imprese che sono più del 90% delle imprese del Paese e che fanno fatica a compiere da sole questa transizione, ecco il sostegno arrivi non semplicemente nell'acquistare un macchinario ma anche nell'acquisire tecnologie e competenze soprattutto. Questo è il terzo asse del nostro investimento sul digitale, sulla transizione digitale ma in ordine di importanza è probabilmente il primo perché è chiaro che per quanto quando si parla di innovazione tecnologica si tende a pensare che la differenza la fanno i macchinari, la differenza la fa la tecnologia, in realtà in questo settore più ancora che sugli altri, se di settore si può parlare essendo assolutamente trasversale, la differenza la fanno proprio le competenze delle persone. Quindi la nostra capacità di creare delle reti nelle quali siano individuabili competenze di cui le imprese si possono servire, delle reti che accompagnino la piccola impresa del territorio che ha bisogno di capire qual è il suo specifico modello di business e voluto in chiave di transizione digitale, quindi non di ascoltare teorie su quanto sia bello dotarsi di nuove tecnologie ma di capire come la sua singola esperienza può essere trasformata e quindi di ricevere finanziamenti in quella filiera sulla base di quello che effettivamente può fare. Ecco questo è quello che stiamo cercando di costruire. 350 milioni del piano sono dedicati proprio alla costruzione di una rete che è fatta di European Digital Innovation Hub, a proposito del rapporto con l'Europa c'è sempre un legame anche con quello che l'Europa sta facendo con Digital Europe e quindi con i programmi europei in quella direzione, che è fatta dei nostri competence center che ci porterà ad avere 50 centri di trasferimento tecnologico che dovranno avere però un coordinamento nazionale per chiarire che cosa vuol dire fare trasferimento tecnologico e come si arriva poi alle imprese sul territorio, quindi come non si costruiscono centri che magari con tutta la buona volontà del mondo però tendono a fare più ricerca che trasferimento ma si costruiscono centri che siano davvero interfaccia per le imprese. Questa è la parte più ambiziosa e più complicata del nostro piano rispetto alla quale però siamo assolutamente in linea con l'Europa perché la call europea sugli European Digital Innovation Hub è partita il 17 novembre, si concluderà a febbraio, a maggio sapremo quali dei 45 progetti italiani rientreranno in quelli finanziati per metà dal nostro PNRR e per metà proprio dal piano Digital Europe e poi ci sarà anche un asilo of excellence per quei progetti che pur essendo apprezzati non riusciranno a rientrare nel complesso di finanziamenti previsti dall'Unione Europea, quindi anche in questo camminiamo nella stessa direzione. Altra cosa che stiamo facendo in linea con l'Unione Europea è la strategia per l'intelligenza artificiale perché poi parliamo di tecnologie ma queste tecnologie sono molto concrete, in particolare l'intelligenza artificiale non è neanche troppo emergente perché è lì da qualche buon anno, però è sicuramente una tecnologia promettente che ha bisogno di essere regolata e l'Europa in questo ci ha dato molti riferimenti anche di recente e ha bisogno però anche di essere incoraggiata rispetto alle capacità di sviluppo nelle imprese e ovviamente attraverso le competenze, per questo abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, è passato un po' sotto silenzio perché è passato lo stesso giorno del Super Green Pass e naturalmente come notizia era un pochino più rumorosa giustamente, però una strategia italiana 2022-2024 che impegna noi, il Ministero della Transizione Digitale, il Ministero dell'Università e della Ricerca con atti molto concreti che vanno assolutamente nella stessa direzione dei regolamenti europei, quindi il PNRR italiano si muove insieme all'Europa nella direzione del superamento delle criticità storiche dell'Italia ma anche della costruzione dicevo di un modello più inclusivo e migliore rispetto a quello che avevamo prima ma se non riusciamo a fare questo avremo bucato la grande occasione del PNRR perché qui non si tratta di risarcire qualcuno, si tratta di creare opportunità nuove ed è questo diciamo quello che abbiamo cercato di fare con un piano che dura 5 anni ma che ha l'ambizione poi di durare molto di più in termini di investimenti che oggi si fanno e che domani devono generare posti di lavoro, inclusione e ovviamente crescita e stabilità per il Paese. Grazie Allora, grazie intanto alla sottosegretaria intanto saluto anche Brando Benefei che è appena arrivato all'eurodeputato che si occupa tra l'altro all'Europarlamento di intelligenza artificiale nato degli argomenti molto sensibili in questo momento chiederei intanto a Susanna Camusso una sua parola a proposito di quello che viene detto è un diritto dei cittadini sono le competenze dei cittadini quelle che poi vanno a ripercuotersi sul mondo del lavoro come il digitale sta aiutando e come il digitale può migliorare la qualità del lavoro? Credo che in queste ore abbiamo tutti pensato che avremmo avuto la fortuna di nascere in Europa e non in Africa quando parliamo di digitale io penso che abbiamo avuto la fortuna di nascere in Europa e non negli Stati Uniti perché poi, come direi, i divari e i problemi si articolano nel mondo non necessariamente sempre dividendo i più poveri dai più ricchi ma anche in questo modo. Perché inizio così? Perché inizio dai regolamenti europei l'ultimo in ordine di tempo è la strategia sull'intelligenza artificiale ma l'Europa si è dotata progressivamente di una serie di regolamenti e a differenza degli Stati Uniti ha delle norme che partono dalle persone, i cittadini, i loro diritti quindi la garanzia, come dire, che l'innovazione che deriva dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale o comunque dall'incrocio delle varie tecnologie digitali non leda diritti e autonomie delle persone. Lo dico perché questo vuol dire partire da uno standard di condizioni di diritto che non sono appunto in generale scontate che ovviamente innescano dei problemi nella relazione col sistema dei progettatori delle funzioni digitali ne abbiamo cronache, come dire, dei conflitti tra la Commissione europea e queste imprese sia sul terreno fiscale ma anche sul terreno della trasparenza dei loro comportamenti. L'Europa ha anche fatto, penso al discorso dell'Unione della Presidente Ursula von der Leyen tendenzialmente direi del 2020 ma con la pandemia le date mi si sono un po' confuse quindi non sono sempre sicurissime ma direi 2020 perché parlavamo di Next Generation Europe e della, come dire, relazione tra un grande piano di investimenti nei paesi e una necessità di acquisire un'autonomia europea in termini di progettazione e capacità, come dire, di stare nella competizione rispetto al digitale. Ecco, devo dire, molti hanno interpretato il digitale e pochi hanno interpretato questo aspetto e questo è uno dei problemi cioè noi non siamo, come Europa e nemmeno come Italia dei significativi produttori di tecnologia e quindi di orientatori di come si determinerà l'innovazione tecnologica e quindi da questo punto di vista proteggiamo dai diritti ma dovremo continuare a difenderci rispetto a tecnologie che sono invasive. Però il tema di non avere un'idea e un'effettiva chiamata, diciamo, raccolta dell'insieme dei paesi europei per diventare tecnologicamente non dico autosufficienti ma in grado, come dire, di produrre delle cose può non interrogativo anche al nostro paese che c'è non solo sul digitale ma sicuramente anche sul digitale noi abbiamo dinanzi a noi una prospettiva data dal piano nazionale che è una prospettiva di acquisto di tecnologia giustamente è necessario, come dire procedere a processi di innovazione però è acquisto di tecnologie non abbiamo, come dire, un'idea invece di sviluppo di nostra capacità di produzione nel digitale e questo io credo che sia nel lungo periodo uno dei grandi temi che determineranno la capacità e l'autonomia dei paesi di reggere o non reggere rispetto a cambiamenti che saranno sempre più profondi e saranno anche sempre più rapidi perché qualunque, come dire, tecnologo ci spiega che la grande differenza tra le altre rivoluzioni industriali e la rivoluzione digitale è la capacità del digitale di autoinnovarsi continuamente cioè di non avere lunghe fasi di applicazione ma a perennemente fasi di innovazione attraverso l'incrocio delle tecnologie allora esserci o non esserci non si può aspettare a deciderlo bisognerebbe fosse la caratteristica di oggi molto spesso si parla del digitale come di una immaterialità il digitale è anche molto materiale perché gli strumenti che poi permettono di utilizzare il digitale sono molto materiali sono molto lontani dall'Europa mediamente in termini di produzione questo è un altro dei tanti temi della divisione internazionale del lavoro che ci ha messo anche in difficoltà durante la pandemia pensiamo giustamente all'infrastruttura di rete bisognerà pensare anche alla produzione e poi bisognerà pensare a quanto l'acquisto di tecnologie e i processi di innovazione determineranno cambiamento nella qualità e nella quantità di lavoro per l'uno e per l'altro siamo come dire un po' brancolanti nel buio dal punto di vista della quantità perché nonostante molti appelli a costruire i fondi sulla transizione ecologica e digitale e pensare ai problemi dell'occupazione poi però non ci sono concretamente gli elementi che determinano dei percorsi io credo che questo sia un tema molto serio perché come per le politiche ambientali il rischio è una reazione negativa se le persone sono di fronte al fatto che ci sarà un processo anche straordinariamente positivamente rivoluzionario ma questo determinerà per loro solo dell'incertezza come già sta avvenendo sul tema della decurbanizzazione il rischio è di popolazioni che si mettono di traverso cioè che invocano il mantenimento della condizione precedente è più esplosiva al momento il tema ambientale è anche forse più urgente ma questa è la prima domanda che bisognerebbe farci e io penso che da questo punto di vista dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che più cresce la digitalizzazione dei sistemi produttivi più diminuisce l'orario possibile di lavoro e questo deve ricostruire come dire un clima e un equilibrio tra quantità di lavoro retribuzione di quel lavoro e lavoratori che sono occupati se ci si immagina come dire di avere un mondo ampiamente digitalizzato con lo stesso impegno dal punto di vista del tempo orario attuale ci si prepara anche a una quota di disoccupazione crescente siccome avremmo un problema opposto per esempio di far crescere il tasso di occupazione femminile forse bisogna pensare a che relazione c'è tra un lavoro che verrà in gran parte esaurito dall'insieme delle tecnologie digitali e il diritto come dire di tutti ad accedere al lavoro la seconda cosa è qualità di quel lavoro la robotica ci ha detto che si può rendere meno faticoso il lavoro e questa di per sé è una buona notizia se riuscissimo anche a renderlo più sicuro sarebbe una cosa straordinaria io infatti mi domando perché non obblighiamo la presenza di sensori su qualunque carico sospeso che forse potrebbe evitare qualche incidente sul lavoro cioè se non pensiamo anche a un utilizzo della tecnologia ai fini della sicurezza sul lavoro ma al di là di questo come dire anche della versalità della tecnologia c'è un tema che riguarda quali competenze serviranno se siamo di fronte a tecnologie che si autoinnovano io penso che dobbiamo anche ripensare a come si immagina la formazione dei lavoratori non solo come elemento di transizione dalle precedenti attività alle nuove attività digitalizzate o ambientalizzate ma che tipo di competenze servono perché se io capisco non essendo un tecnologo ma se io capisco se è una tecnologia che ha capacità di grande innovazione su se stessa non c'è il corso di studi che ti porta poi per tutta la tua vita a essere in grado di maneggiarle e allora dobbiamo immaginare una formazione molto diversa da quella che è la storia dell'apprendimento più o meno professionalizzante che abbiamo come dire ereditato e continuato nelle tecnologie tradizionali nelle attività industriali tradizionali ma provare ad immaginarci quali sono le competenze che bisogna avere che sono competenze di saper continuare a studiare in realtà uso un termine poco lavoristico ma in questo caso credo molto preciso e che in parte si sovrappongono a quelle competenze necessarie perché i cittadini non siano disarmati di fronte al digitale sappiano interagire il divario digitale sappiamo che riguarda i paesi ma riguarda poi le persone e le popolazioni all'interno dei paesi riguarda l'essere nativi digitali o non nativi digitali ma anche l'avere come dire gli strumenti per poter le competenze per poter interagire ultima battuta perché non voglio farla lunga formazione che sarà essenziale e che io credo debba smontare un altro stereotipo molto diffuso nel nostro schema perché io sento molto parlare di soft skill come arma come dire della formazione futura quando poi si interroga un po' su cosa sono le soft skill la prima cosa che ti viene detta è la capacità di risolvere problemi e di tenere insieme problemi ecco dopo di che mi si spiega anche in diretta sequenza gli uomini sono tecnologici le donne no ecco le soft skill sono una classica caratteristica quotidiana delle signore che potrebbero come dire raccontarle a tutte e a tutti ma il fatto che si usi questo stereotipo nel descrivere la cosa in realtà a me dice abbiamo ancora una scarsa idea di come si producano davvero dei processi formativi che non riguardano piccole entità di persone ma che dovrebbero riguardare su un piano dei diritti l'insieme ai cittadini e sul piano del lavoro l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici e che non siano pensati in una logica specialistica perché dico non pensati in una logica specialistica perché ci sarà chi agirà direttamente sulle tecnologie ma tutti staremo in un ambiente digitale e quindi anche chi non farà mansioni innovate dal punto di vista degli strumenti che usa però sarà in relazione comunque con un ambiente digitale e quindi avrà bisogno di un bagaglio di competenze e di capacità di interagire che non sono quelle di essere il super dottorato in informatica ma che è quella di conoscere gli strumenti che c'ha intorno in quale ambiente di lavoro è in quale connessione di quell'ambiente di lavoro con altri una idea quindi come dire di trasparenza e conoscenza dei cicli del tutto diversa che abbiamo attualmente forse siamo in ritardo e sicuramente però noi abbiamo bisogno di immaginarci come usciamo da logiche settorializzate e specifiche e ci proviamo invece a immaginare delle grandi formazioni trasversali grazie sto parlando degli adulti perché poi c'è come dire la scolarizzazione ma il tema sono gli attuali adulti che si trovano in questo cambiamento assolutamente coglierei l'occasione di due argomenti che lei ha introdotto per parlare con il direttore Donovo che immagino che ci stia sentendo che abbia sentito qui stiamo parlando di due argomenti molto importanti per l'Europa che sono quelli della produzione tecnologica che è lontana dall'Europa e come ha detto anche la sottosegretaria Scani noi abbiamo il problema del 5G che sta un po' rallentando rispetto alle aspettative ecco vorrei chiedere al direttore Donovo come l'Europa si sta muovendo in questi settori e il divario come può essere colmato european perspective as their speakers have already done what we see is that from the start of president von der Leyen's commission digital has been at the heart of their priorities so it is one of our two key priorities along with the green deal and in elaborating a series of policy initiatives we have also sought to ensure that the issue of the human of the worker of the individual citizen is at the center of our digital policies to the extent also that the investment and that the support funding also has clear guidelines for how it must deal with issues such as discrimination integration diversity and inclusion but also most importantly how it must deal with the human issues of new technologies and even that has to be seen from a very shall we say cold-hearted perspective of business if we are not able to ensure that the european workforce are actually fully digitally literate we will not be able to in to really use and exploit the tools which digital technologies give to us and the opportunities for increased productivity but also for increased welfare of all citizens and workers that those technologies allow so that is why when at the start of this year when the commission issued our digital decade communication in what we call the digital compass it shows four key cardinal points as to how europe needs to in this decade meet its digital ambitions for the transition of the whole of society and economy while we and people like me are often accused of concentrating only on the hard technology or on the businesses it is very very significant that of the four points the four cardinal issues which the commission raised the first and leading point was that of digital of skills and that was a recognition of the absolute importance of allowing all elements of the workforce to to be able to change an upskill in order to embrace technologies to benefit from technologies but also not to be left behind as again i said in a recognition that if we do not do that then a lot of the other efforts we're making with regard to the rollout of technologies will be actually pointless so we have set ambitious targets for a successful approach to the digitization of society and that includes the digitally skilled population so we want to as it were a future-proof society but maintaining a human element to that so that by 2030 at least 80 percent of adults have at least basic digital skills but also that we have 20 million ict specialists employed in europe and in that we have set very clear guidelines with regard to the need to have convergence between the employment rates in the ict area of women and men and that is again to actually to benefit from the full sets of skills which different and diverse backgrounds will bring to the use of digital technologies and there are other experts uh greater experts than me in artificial artificial intelligence on this panel today but if we just look at the risks of um subconscious unconscious bias of discrimination or other flaws in the typical stereotyped male uh software expert we realize that we have to bring in much more diverse perspectives in the actual engineering of these new technologies in order to ensure that we do not have a biased and therefore less valuable outcome to the applications of technologies so that's why digital skills and the inclusion of all groups in society in that skilling up is so important we are far from our targets only 56 percent of europeans have at least basic digital skills in 2019 and you know we only have less than eight million ict specialists in 2020 which is far from the target that we have set ourselves so as has already been referred to we have specific instruments like the digital europe program which is supporting the delivery of a new master's program in key digital areas and in the recovery and resilience plans the national recovery plans as again have already been referred to there there's a major opportunity for skills for upskilling and for digital skills and the italian plan is a very good example of this it's the largest in the european union that's nearly eight billion euros will be devoted to digital transition and after that will obviously need to go to digital skills so that digital skills development this is exactly what we call digital divide I would ask for a moment to pause with the director of Donahue and I would ask for the sottosegretary Ascani before we leave it if we are talking about artificial intelligence once in a lifetime opportunity ecco le chiederei in conclusione un suo pensiero sul futuro dell'intelligenza artificiale dei rischi che presenta ma anche delle opportunità vale la pena di investire in questo settore i giovani devono pensare attivamente ad occuparsi per esempio di quello che stava dicendo il direttore Donahue per esempio di informatica nel senso di migliorare le prestazioni dell'intelligenza artificiale ci sono ricerche ormai abbastanza consolidate che ci dicono che l'occupazione si sposterà progressivamente sempre di più verso il digitale verso lavori che richiedono skill come quelle che venivano adesso descritte ha ragione camusso nel dire che questa è una buona notizia nel senso che naturalmente ci dice che rispetto al lavoro possiamo innalzare la qualità dell'occupazione e però è un tema rilevantissimo per quello che riguarda i livelli occupazionali e quindi il numero degli occupati per cui ovviamente noi il messaggio che dobbiamo dare a livello scolare è lo stato si impegna a formare le competenze digitali base sin dalla scuola cosa rispetto alla quale noi siamo molto in ritardo io in una fase precedente mi sono occupata di istruzione e ho cercato di spingere molto sul coding sull'alfabetizzazione digitale perché noi ci illudiamo che i più piccoli essendo un po più smanettoni dei genitori conoscano potenzialità e rischi delle tecnologie non è così ovviamente quindi abbiamo bisogno invece di alfabetizzare al digitale e alle competenze legate al digitale per quello che riguarda l'intelligenza artificiale lo dicevo anche prima non è una tecnologia nuova ma è tra le tecnologie che abbiamo a disposizione tra le più promettenti perché ne abilita altre peraltro è chiaro che noi come italiani ci inseriamo nell'approccio europeo cioè spingere il più possibile perché si implementino tutte quelle opportunità che derivano dall'applicazione dell'intelligenza artificiale ai processi nel mondo del lavoro stando attenti all'approccio umano centrico che è tipico del regolamento europeo che non mette al centro la tecnologia ma mette al centro il cittadino i diritti del cittadino la libertà del cittadino e quindi ribalta rispetto all'approccio americano a questi temi anche l'ordine delle priorità e noi con la nostra strategia andiamo in quella direzione dopodiché abbiamo voluto anche trasformare il lavoro che era iniziato diverso tempo fa il ministero dello sviluppo economico in maniera più teorica in qualcosa di molto concreto che ci impegna rispetto al PNRR quindi investimenti in questi settori ci sono e ci saranno sia dal nostro ministero che dagli altri due ministeri coinvolti perché poi ovviamente tutte queste teorie su quanto è importante dare una spinta all'intelligenza artificiale hanno bisogno di essere poi sostanziate trasformate in politiche nelle singole filiere e ovviamente che arrivino alle singole imprese però tenendo presente che il nostro approccio è esattamente quello quello europeo in questo momento il che probabilmente ci vincola un po di più ma credo che nel lungo periodo sia un approccio di gran lunga preferibile quindi concordo con quanto veniva detto fin qui poi brando se ne è occupato in altri luoghi e abbiamo anche con lui convenuto l'importanza di tenere l'italia su questa linea e credo che insomma la strategia del governo abbia assolutamente ripreso le indicazioni europee ora ovviamente valuteremo quello che abbiamo fatto perché poi l'altra cosa che ci ha insegnato l'Europa a rendicontare e a valutare a consultivo e anche le politiche italiane saranno valutate poi sulla base di quello che concretamente avranno prodotto perché il PNRR sulla carta è un piano molto ambizioso veniva detto anche adesso probabilmente esemplare però dobbiamo capire che cosa produrrà poi concretamente in termini di posti di lavoro posti di lavoro di qualità che poi sono l'essenza della crescita del paese altrimenti crescita è una parola vuota di per sé direi che è tutto io mi scuso ancora purtroppo devo lasciarvi perché ho un impegno al Ministero però insomma grazie davvero per aver organizzato questo dibattito mi dispiace non poter ascoltare gli altri interventi che sono sicura saranno interessanti tanto quanto quelli che abbiamo appena ascoltato grazie della sua presenza grazie della sua presenza mentre ci lascia la sottosegretaria Scani la quale ringraziamo ancora per averci illustrato gli intenti del PNRR augurandole soprattutto buon lavoro perché c'è molto da fare in questo settore Brando Benefei è stato chiamato in causa proprio per la questione di intelligenza artificiale io vorrei capire la commissione della quale lei fa parte commissione AIDA o IAIDA al Parlamento Europeo che cosa si propone esattamente di fare? allora intanto grazie per l'invito è un appuntamento ormai fisso per cui ringrazio Unius di approfondimento serio sui temi europei che ce n'è bisogno anche in queste giorni magari anche approfondimenti poco seri sulle cose che si discutono in Europa invece di parlare seriamente delle cose importanti questo argomento di oggi abbiamo sentito già diversi interventi è molto complesso è molto importante perché poi tocca tutto la trasformazione e innovazione tecnologica ha un impatto davvero trasformativo sulle nostre società sono già state dette molte cose che condivido e io effettivamente mi sto occupando di una di queste questioni di una di questi pilastri possiamo dire delle trasformazioni in atto e cioè l'uptake dell'intelligenza artificiale lo sviluppo di questa tecnologia che la mia impressione è che stia vivendo l'avvio di un abbrivio diciamo come quello che noi abbiamo visto e vissuto lo dico proprio da consumatore diciamo per la rete per internet nel senso che io quando ero all'elementare avevo le prime connessioni internet lente che bisognava collegarsi che occupava la linea telefonica poi qualche anno dopo insomma internet era un po' più veloce c'era la DSL però era sempre una cosa lì con il computer e poi in un paio d'anni improvvisamente ci ritroviamo con i social network con internet sul cellulare con le mappe con diciamo un approccio all'informazione alle notizie che cambia completamente questo non è avvenuto in vent'anni è avvenuto in pochi anni allora la mia impressione è che l'intelligenza artificiale stia entrando in quel diciamo non c'è ancora ma stia entrando lì oggi abbiamo applicazioni che anche le persone utilizzano assistenti diciamo di vario tipo anche sui cellulari iniziamo a leggere articoli che poi scopriamo che non le ha scritti un giornalista ma diciamo che è tutto un po' frammentario io ho la sensazione che fra un po' a un certo punto in poco tempo ci ritroveremo circondati qualcuno c'è già ma non lo percepiamo fino in fondo circondati da oggetti che sono alimentati dai dati in chiave di intelligenza artificiale che comunicano fra loro con noi e che in teoria dovrebbero servire ad aiutarci ad aumentare le nostre capacità quindi io penso che arriverà un momento esponenziale dell'intelligenza artificiale e noi dobbiamo arrivarci pronti perché già oggi in una fase ancora intermedia tanti temi tanti problemi emergono e da ciò nasce il lavoro del potenzialità opportunità straordinarie ma problemi anche che emergono insomma dal lavoro che il Parlamento ha iniziato a fare già da tempo veniva ricordato che anche dalla sottosegretaria che non è che nasce oggi il Parlamento europeo già nella scorsa legislatura con un rapporto sulla robotica aveva iniziato a occuparsene era il rapporto della mia collega lussemburghese Madi Delvaux ricordo molto bene e poi in questa legislatura abbiamo iniziato fin dall'inizio della legislatura a fare diversi rapporti sul tema intelligenza artificiale per poi arrivare a costituire una commissione speciale che ormai ha un annetto di vita che è di cui io faccio parte Aida che ha avuto una funzione dico ha avuto perché ormai siamo alla coda del lavoro di Aida alla fine una commissione di studio una commissione di approfondimento che ha fatto tantissime audizioni che ha approfondito tantissimi aspetti dell'applicazione dell'intelligenza artificiale in tantissimi ambiti quelli del lavoro quelli dei diritti fondamentali delle questioni delle libertà del mondo della finanza del mondo delle telecomunicazioni le questioni che riguardano l'applicazione urbana dell'intelligenza artificiale io sono stato recentemente proprio in quanto membro di Aida invitato a un convegno a Barcellona proprio sulle città dell'intelligenza artificiale che si occupava di capire come oggi già le città usano l'intelligenza artificiale in vari ambiti il lavoro di Aida è un lavoro di approfondimento che arriverà a produrre all'inizio del prossimo anno nel senso che è in corso ora il lavoro proprio materiale di drafting di ammendamento un rapporto parlamentare molto articolato penso sarà alla fine molto ampio che sarà approvato nei primi mesi dell'anno questo sarà una base molto importante corposa di contenuto di proposta politica per la ciccia vera voglio essere molto terra terra perché poi qui discutiamo rapporti strategie white paper idee risoluzioni anche per esempio su un tema che lo devo dire un tema molto controverso molto politicamente desso che è quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sorveglianza biometrica per esempio il Parlamento europeo ha già votato una risoluzione molto preoccupata molto diciamo contraria a un utilizzo massiccio delle tecnologie di sorveglianza attraverso telecamere intelligenti eccetera però questo è tutto discorso politico poi le leggi sono un'altra cosa adesso sta arrivando la legge cioè la cosa vera cioè il regolamento nel senso che io proprio in queste ore anzi che ore sono? Ecco fra un quarto d'ora io sarò ufficialmente assegnato come relatore del Parlamento europeo insieme al collega Tudorache della Commissione Libertà Civili saremo co-rapporteur del Parlamento europeo sul regolamento sull'intelligenza artificiale cioè saremo noi insieme io e il collega a negoziare con i governi con la Commissione europea mi permetto di ipotizzare per i prossimi due anni perché questo penso sarà il tempo necessario per avere il regolamento il regolamento sull'intelligenza artificiale che ripeto è un regolamento cioè l'atto legislativo più hard che l'Unione europea può fare cioè una cosa che poi non si adatta nelle legislazioni nazionali è una una volta che approvata è la legge per tutti si tratta di uno sforzo unico a livello mondiale non c'è nessuna parte del mondo che abbia un regolamento orizzontale sull'intelligenza artificiale vi dico in poche parole ve non prendere altro tempo solo i nodi fondamentali perché è importante secondo me metterli sul tavolo perché si incrociano con le cose già dette dagli altri relatori quali sono i temi su cui già poi ci sarà tempo di approfondire il regolamento ma di cosa in cosa il Parlamento i governi discuteranno sicuramente molto animatamente sul contenuto del regolamento già lo sappiamo perché la proposta della Commissione è sul tavolo da qualche mese quindi è già stata esaminata anche se il lavoro parlamentare formale inizia fra un quarto d'ora diciamo e che cos'è intanto l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro lo dico avendo qui Susanna ma è un fatto perché emerge nettamente nella proposta della Commissione europea l'assenza delle parti sociali non c'è non ci sono nel dialogo diciamo non sanno né un ruolo di informazione né di consultazione né di codecisione per noi questo non è accettabile è vero che è un regolamento di mercato interno ma secondo noi quando si tratta di inserire noi dico una parte del Parlamento io certamente difenderò questa posizione come relatore quando si tratta di inserire le tecnologie di intelligenza artificiale specialmente quelle intrusive che riguardano la sorveglianza che riguardano la selezione addirittura l'assunzione e il licenziamento dei lavoratori sono già ampiamente utilizzate le forze sociali e le parti sociali devono essere informate e in alcuni casi magari anche coinvolte in maniera necessaria questo sarà un tema di grande dibattito secondo è il metodo di scelta di metodo di certificazione per l'inserimento delle tecnologie ad alto rischio all'interno del mercato comune oggi la proposta della commissione propone largamente l'utilizzo dell'autocertificazione io autocertifico che rispetto le regole poi vediamo se non è così lo scoprirete nel caso mi fermerete noi siamo d'accordo a prevedere un ampio spettro di autocertificazione quando non si tratta di usi che vadano a ledere immediatamente i diritti fondamentali quindi noi riteniamo dico noi di nuovo un pezzo del Parlamento europeo qui mi sento di dire anche una maggioranza dato che ne abbiamo già discusso dobbiamo immaginare che quando si va a toccare l'accesso ai servizi sociali l'accesso a un mutuo bancario l'irriconoscimento dello status di rifugiato i diritti fondamentali delle persone che sono anche i diritti sociali i diritti umani i diritti civili lo status di cittadino noi non possiamo immaginare che non ci sia una verifica ex ante diciamo della conformità ai diritti fondamentali è un burden è un peso per le imprese sì però infatti non va espanso oltre il necessario però dovremmo trovare un equilibrio l'approccio attuale che per esempio la commissaria Vestager ha difeso anche in un confronto che ha avuto con me in commissione mercato interno secondo noi è eccessivamente l'asco perché abbiamo degli esempi recenti in Olanda sono stati tolti ai genitori decine di bambini per un algoritmo che misurava la loro capacità di poter avere tenere i figli che si è rivelato un algoritmo fallace e si è dovuto dimettere da leader dei lavoristi il ministro che al tempo era il ministro del lavoro e lo scandalo non è ancora finito basta leggere i giornali olandesi e riguarda proprio algoritmi difettosi che poi si scopre troppo tardi essere difettosi terzo e ultimo tema l'ho già citato la sorveglianza l'uso in ambito di controllo in ambito social quindi per fare social scoring la classifica dei cittadini che è bravo e meno bravo come si fa in alcuni posti del mondo la sorveglianza biometrica con le telecamere la previsione emotiva questi generi di strumenti su questo c'è in molte delle cose che ho citato un divieto ma con delle eccezioni dobbiamo un po' esaminare bene queste eccezioni perché ad esempio il tema della sorveglianza che viene eccepita rispetto a crimini seri e terrorismo crimini seri francamente in alcuni paesi europei temo che siano cose che per noi sono la normalità oggi in Polonia mi pare che per l'ultima legge l'aborto di una donna in condizioni che in Italia sarebbero legali oggi potrebbero essere un serious crime dunque dobbiamo capire quali strumenti si possono utilizzare in un contesto europeo dove la rule of law rispetto allo Stato di diritto oggi è oggetto di una tensione di un dibattito dunque noi abbiamo su questo un atteggiamento prudenziale che penso andrà a rifinire o comunque approfondire anche le attuali normative proposte dalla draft della Commissione Europea Allora chiedo scusa Alessandro Perego si è ancora collegato con noi per l'attesa però ci terrei molto ad avere comunque un suo commento sulla situazione della Desi l'Italia è salita di 5 punti in classifica nella Desi questo è rilevante è accaduto a causa della pandemia stiamo meglio di prima o è stata una conseguenza della situazione sanitaria? Dico due parole sulla domanda che mi ha posto però poi mi piaceva riallacciarmi all'ottimo dibattito avvenuto precedentemente agli ottimi interventi che ho sentito in cui mi ritrovo molto sottolineando alcuni punti allora il tema del Desi in realtà come al solito in questa situazione è cambiato anche il modo in cui si calcola il Desi quindi in realtà è discutibile che l'Italia sia davvero significativamente migliorata comunque qualche miglioramento c'è ovviamente il miglioramento il Desi fa un'analisi comparata a livello europeo quindi se vogliamo anche solo migliorare a livello di Desi non necessariamente è un miglioramento a livello di Europa quindi se l'Italia migliorasse molto sul Desi perché gli altri non migliorano è discutibile che sia un miglioramento per l'Italia anche incoerente col modo in cui stiamo affrontando il tema qui che è un tema europeo cioè qui stiamo guardando la competizione dell'Europa a livello mondiale e dell'Italia dentro nell'Europa quindi da un certo punto di vista se l'Italia non migliora nel posizionamento del Desi ma tutta l'Europa migliora in termini di valori assoluti che stanno dietro al Desi bene è meno grave questo che non se l'Italia migliorasse perché gli altri rimangono indietro tornando un po' al punto mi ha molto colpito il titolo di questo pomeriggio perché il titolo di questo pomeriggio è molto significativo come annullare i divari tra stati membri e migliorare la competitività a livello globale a di là del fatto che annullare è evidentemente un qualche cosa che non si riesce a fare ma qui dietro c'è un'idea di competizione che come si è detto prima è dell'Europa non necessariamente del resto del mondo qui c'è l'idea che si può competere non accentuando i divari cioè con qualcuno che viaggia molto più rapidamente degli altri ma proprio accorciando i divari cioè facendo in modo che ci si muova come gruppo che ci si muova come sistema questo mi sembra una cosa importantissima è già stata affermata in precedenza in altre parole l'Europa è un unicum un po' nel mondo da questo punto di vista ha un suo ruolo ha una sua specificità ha degli elementi qualificanti già citati la centralità della persona il rispetto della persona a cui si unisce proprio il tema dell'attenzione dell'inclusione dell'attenzione a chi rimane indietro e l'Italia in Europa da questo punto di vista è ancora più avanti rispetto agli altri quindi questo è un primo elemento molto importante quando parliamo di divari di che divari stiamo parlando intanto i divari sono non solo a livello di nazioni ma sono anche a livello di regioni dentro le nazioni cioè quindi qua i divari sono molto significativi ma i divari sono prevalentemente se uno guarda dentro nel desi e capisce un po' meglio su aspetti strutturali di cui il principale aspetto strutturale è già stato richiamato sono le competenze uno dei principali elementi in cui il divario è più forte sono proprio le competenze diciamo le competenze digitali adesso per l'attenzione che ha il desi e questo è un aspetto importante da affrontare come è stato detto prima dico un'ultima cosa di premessa e poi vado a dire qualche suggerimento su come io affronterai la situazione se fossi l'Europa in parte lo sta già facendo evidentemente il digitale per il modo in cui lo intendiamo in Europa è digitale per l'uomo e per l'ambiente questo è un elemento fondamentale non è digitale per il digitale digitale è uno strumento l'abbiamo detto prima il digitale deve migliorare il lavoro delle persone non sostituirsi al lavoro delle persone questa è una cosa fondamentale da questo punto di vista il un altro un altro diciamo così un altro elemento fondamentale su cui adesso volevo un attimo concentrarmi è vedere come l'Europa si sta muovendo in questo contesto e secondo me si sta muovendo bene cioè l'Europa è bene che giochi questa partita di competizione sul digitale proprio lavorando sul suo campo cioè giocando la partita sul campo dove è forte che appunto è rispetto della persona rispetto dei diritti competizione a livello di sistema da questo punto di vista ci sono alcuni aspetti che è importante in qualche modo richiamare e favorire in questo percorso il primo è il tema della centralità del mantenere in Europa la ricerca e sviluppo da questo punto di vista già sto detto prima la manifattura in Europa cioè quindi non comprare tecnologie ma anche giocare una partita nella produzione è fondamentale per tenere in Europa la ricerca e sviluppo e questo è un tema è un tema fondamentale per poter indirizzare l'innovazione digitale l'innovazione tecnologica nelle direzioni che sono proprie del campo di gioco dell'Europa un altro elemento fondamentale è il ruolo della pubblica amministrazione come luogo di formazione diffuso e anche come luogo paradigmatico in cui i cittadini in qualche modo hanno un esempio continuo di come si può potrebbero avere un esempio continuo di come si può giocare questo tipo di questo tipo di di partita scenari prospettici e poi chiudo da questo punto di vista quando parliamo di scenari in avanti ovviamente bisognerebbe avere la sfera di cristallo ma io vedo uno scenario come già in atto è molto probabile per l'Europa intanto è già sto detto che l'Europa ha già fatto una svolta ha già svoltato la china cioè rispetto a qualche decina di anni in cui da questo punto di vista stava progressivamente perdendo di rilevanza grazie a una serie di fatti che sono capitati in questi ultimi anni citiamone solo alcuni tutta l'attenzione sul Green Deal tutta l'attenzione sulla industria 4.0 il modo con cui ha gestito la pandemia il Next Generation EU tutto l'approccio equilibrato alle tecnologie di cui si è parlato prima parlando dei regolamenti già hanno qualificato un punto di svolta fondamentale per cui l'Europa sta già risalendo nella sua rilevanza a livello mondiale e quindi io vedo dieci anni davanti in cui l'Europa potrà sostanzialmente giocare qui un ruolo di leader e non di follower proprio sulle transizioni gemelle quella digitale e quella ambientale perché queste due transizioni siano davvero gemelle intanto perché siano delle transizioni e non delle rivoluzioni delle transizioni che non lasciano dietro morti e feriti e poi siano gemelle cioè non sorrellastre non antitetiche ma siano davvero due componenti che in qualche modo lavorano insieme per il rispetto della persona rispetto dei diritti e come dicevamo prima una competizione che sia inclusiva e non esclusiva cioè che non spachi che non crei fratture ecco in questa logica credo che l'Europa abbia già svoltato e abbia davanti a sé dieci anni in cui può giocare un ruolo di leader grazie Alessandro Perico delle sue importantissime osservazioni sul quadro europeo che è molto in linea con quello che hanno detto i nostri interlocutori noi abbiamo soltanto un minuto e mezzo posso chiedervi per cortesia un'ultima parola su dove saremo tra cinque anni Camusso comincia lei parlo ovviamente del digitale perché al netto della situazione sanitaria e tutto il resto ci vorrebbero degli altri interlocutori per parlare di dove saremo dal punto di vista sanitario lascerei perdere dove saremo tra cinque anni saremo in un mondo apparentemente uguale a questo ma in realtà tutto diverso cioè quello che sta già succedendo con le nuove tecnologie con l'intelligenza artificiale con gli algoritmi con tutte le modalità che sono sempre più presenti ma non sono visibili cioè non li realizziamo prima Brando faceva un esempio alle tecnologie intrusive una delle tecnologie sono per esempio i motori automatici di ricerca tra i motori automatici di ricerca c'è anche quello della selezione del personale sulla base di banche dati che sono in genere piene di bias e quindi in realtà sta già esistendo una selezione degli accessi del personale che noi non vediamo non controlliamo non abbiamo modo di allora tutto questo cresce molto più rapidamente quindi noi crederemo tra qualche anno saremo apparentemente nello stesso mondo di oggi ma con delle condizioni che sono nei fatti assolutamente diverse per questo sono contenta di essere europea perché comunque ci avrò dei regolamenti comunque ci avrò dei luoghi a cui come dire da invocare con come dire una necessità io non demonizzo la tecnologia penso che come dire la differenza la farà se la consideriamo uno strumento o se la consideriamo Dio interva che può fare qualunque cosa se la consideriamo uno strumento la regoliamo decidiamo dove utilizzarla dove non utilizzarla come utilizzarla se invece pensiamo che comanda lei la situazione sarà una situazione di profondissima discriminazione ma io penso come dire che bisogna rafforzare un'Europa che invece sia in grado di continuare a mettere le persone al centro e non i software al centro ultima battuta però saremo un mondo con dei divari terribili perché noi continuiamo a parlare della tecnologia come cosa immateriale la tecnologia appare a noi immateriale ma in realtà è fatta di straordinarie cose materiali che sono però il peggior lavoro che in questo momento c'è al mondo è il lavoro delle miniere dei bambini e delle grandi fabbriche di produzione nell'estremo oriente dove i ritmi sono ritmi insopportabili e le persone lavorano solo 3-4 anni allora io credo che dobbiamo anche porci questo problema perché appunto noi ormai abbiamo un'intelligenza artificiale sui telefonini e pensiamo che sia una nuvoletta no è un oggetto un materiale che viene prodotto e che viene prodotto dentro il più grande divario tra le condizioni di lavoro che oggi si conosca ecco forse tra 5 anni dovremmo essere nelle condizioni di aver chiuso questo divario e avere diffuso un po' di buon lavoro Benefese ce la fa in un minuto l'etica dell'intelligenza artificiale è un traguardo raggiungibile lei ci spera? ci proveremo ma è un tassello di una sfida senza un approccio umano alle nuove tecnologie è un approccio che tenga conto delle fragilità delle democrazie con una presa di coscienza penso che il rischio è che fra qualche anno ci troveremo in regimi politici in società più autoritarie più diseguali di quello che ci aspettiamo oggi perché il rischio è di un grande divario che esplode fra chi avendo le conoscenze è in grado di dominare questi strumenti e chi ne invece è manipolato e dominato in parte già oggi nei dibattiti su le fake news il ruolo delle grandi piattaforme intravediamo questo dibattito il rischio a mio parere è che esploda un livello di conflitto ben diverso e ben superiore se non attrezziamo le nostre società e facciamo anche le leggi giuste affinché la democrazia sia in grado di essere rafforzata e il diritto diciamo su cui è fondata la nostra società sia rafforzata da questi strumenti e non minata perché il rischio io lo vedo tutto e quindi penso che diciamo impegnarsi per diciamo leggi giuste e per un sviluppo della tecnologia che sia attenta alla lotta alle disuguaglianze concrete che si realizzano in maniera diciamo trasversale agli ambiti alle questioni sia un approccio che la politica deve tenere di fronte a questioni che davvero hanno un impatto trasformativo che secondo me non è completamente percepito oggi da tutti anche da chi poi partecipa alle discussioni e alle decisioni quindi c'è un grande lavoro da fare ma credo che sia fondamentale proprio per salvare anche un po' un nostro modello politico che è fatto di libertà e di diritti sociali di diciamo lotta alle disuguaglianze eccessive certamente che credo siano questi elementi che ho detto davvero un po' elementi fondativi di quella che è oggi l'Europa insomma grazie grazie a tutti i nostri interlocutori collegati da remoto grazie ai nostri relatori qui presenti tanti auguri di buon lavoro a tutti ce ne sarà molto bisogno del vostro apporto nei prossimi anni grazie a tutti per l'ascolto buona serata e con questo finisce How can we cover in Europe 8 è stato un bel dibattito sono personalmente particolarmente contento di aver sentito per ultime le parole di Benifei e di Camusso e niente adesso ci rimettiamo a lavorare per l'anno prossimo quello che è uscito fuori da tutti i dibattiti questa mattina sui vari temi che abbiamo affrontato è di aumentare la partecipazione delle persone di avere attenzione per le persone per i lavoratori ma anche per le persone che non sono necessariamente lavoratori di coinvolgerli fare in maniera che fare andare avanti l'Europa coinvolgendo le persone che sono l'Europa che l'Europa non è le istituzioni a un Parlamento eletto da noi va bene ma adesso c'è questa esperienza nella quale si è parlato poco forse può essere un'occasione la conferenza per il futuro dell'Europa ma è sicuramente un primo tentativo in un percorso che va fatto va sperimentato di maggior coinvolgimento dei cittadini che può dire maggiore attenzione per i cittadini e per le persone quindi grazie a tutti grazie che siete stati qua grazie ai ragazzi per i quali è stato credo un po' più faticoso che per noi adulti magari stare qui o qualche ora al chiuso e buon anno al prossimo How Come We Go in Europe